Attimi di paura questa mattina attorno alle 9 in via Leonardo da Vinci a Breno dove un'auto, un furgoncino ha preso improvvisamente fuoco. I due occupanti, l'autovettura che si sono accorti che dal vano motore usciva del fumo sospetto, sono riusciti a parcheggiare il mezzo in una piazzola di sosta nei pressi della Tassara, quindi ad uscire. Nonostante i loro tentativi di fermare le fiamme con un estintore quando in posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Breno. Il distaccamento si trova a poche decine di metri dall'incendio, l'auto era già completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno comunque domato l'incendio, quindi bonificato e messo in sicurezza la zona. Nessuna conseguenza per fortuna per i due occupanti dell'auto che come detto sono riusciti a mettersi in salvo e a chiedere aiuto. Imposto anche una pattuglia della polizia stradale di Darfo, Borio Terme per gli accertamenti di legge. Nessun particolare problema per il traffico.